let's go bentornati ovetti su paper mario di origami king nello scorso episodio abbiamo sconfitto il cartomagno della terra e adesso è finalmente giunto il momento di riscalare il monte belvedere e arrivare c'è un toad qui ok in cima alla torre come si chiama quindi potere cartomagno ora gli do io una bella scossa tutti giù per terra beh non male devo ammettere e adesso andiamo mi occuperò di quello che ho mancato nel monte belvedere non oggi wow guarda là che funghi giganti e quella banana ci potresti fare frappe per un esercito ma hanno qualcosa di strano no ma non sono veri sono soltanto disegnati sul muro scusa se ti ho illuso mario caspita questo è uno degli strappi più grandi che abbiamo visto finora temo che ci vorranno un di coriandoli per coprirlo tutto beh cominciamo vai così ci sono un bel po di toad credo qua anche perché già ne ho visti un paio uno la uno sul muro ok riempi lo strappo o e hai riparato quello strappo enorme per tutti gli origami e mio fratello ho capito subito che questo era un disegno molto ben fatto però deve essere dello stesso autore dei funghi della banana gigante ehi ma allora chi ha fatto questi disegni deve conoscere mio fratello non so come ma non c'è altra spiegazione beh cominciamo a liberare i toad no qua ne ho visto uno nella cartellina vai ok perfetto non mi divertivo così da una vita non è che mi potresti piegare di nuovo per farmi fare un altro giro non ti conviene caro qua c'è un altro toad quindi liberiamolo no mi stai strappando deve esserci un altro modo aprire l'ascensore ah molto meglio mario benvenuto alla torre bel vedere visitarla è sempre un piacere sì stiamo ancora lavorando al nostro slogan e anche con le pulizie siamo messi piuttosto male questi disegni non sono male ma mi fanno pensare a quel mostro orribile che ci ha attaccato era terribile una creatura dal corpo metallico con un enorme bocca irta di fauci vuoi dire che sono stati dei mostri a fare questo non sapevo che mio fratello fosse amico dei mostri e non può essere altrimenti visto che conoscono il suo viso beh so che sei spaventato ma ora che c'è ma ora c'è qui mario perciò non so niente da temere dico bene mario beh sì ma qua altri toad credo per forza sì ok e uno grazie mario se ti viene fame posso pure a trovarmi al primo piano lavora al ristorante ok poi qua invece altro toad non dirlo al mio capo ma me ne sto qui tutto il giorno a fare niente ok e qui invece c'è un altro fio grazie mario ora posso tornare a vendere eleganti souvenir e altre cose utili che ti interessano passa pure al mio negozio quando vuoi davvero vendi cose cosa vendi tanto per sapere benvenuto in realtà non vendo nessun souvenir a a vendi funghi che ne prendo uno tanto perché posso ma non ne prenderò altri per un bel po allora possiamo andare qua sopra perché c'è questa ok facilmente intuibile visto che alla pattern del tod e va e disaccorto di me ok wow davvero un bel disegno ora che lo vedo quasi mi dispiace non essere stato incluso anch'io nel senso colorato anche tu vabbè adesso qua non possiamo ancora andare quindi c'è un altro tod nelle vicinanze dov'è nei vasi qua a qua cioè no non acqua carta ma non importa mentre eravamo arrotolati tutti assieme ne abbiamo approfittato per conoscerci meglio ora siamo tutti amiconi buon per voi i miei cari tod però mi sa che adesso per salire devo prendere l'ascensore quindi andiamo sto per fare una cosa che voglio fare da sempre non mi giudicare d'accordo secondo piano cosmetici borsette pantaloni da uomo arance profumi e attrezzatura da campeggio terzo piano biciclette materassi abiti eleganti frullatori e fumetti come sono andata ho sempre sognato di lavorare gli ascensori di un grande magazzino anche se non ho mai visto un grande magazzino dal vero ma deve essere divertente no ti spiace se lo rifaccio anche quando scendiamo per tutti gli origami c'è mancato davvero poco cosa sono tutti questi cosi appuntiti che intralciano il cammino uffa mi hanno rovinato tutte le fantasie che avevo sui grandi magazzini a meno che cari passeggeri dell'ascensore vi prego di scusare qualsiasi disagio casolo dall'emergenza a cui il mio amico mario sta ponendo rimedio mario fa qualcosa hammer 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 time si scende ai 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 pieno terra principessa e spiaccicate fantasie rovinate vedri infranti e abbigliamento sportivo e gumba sono un bel po in effetti è allora proviamo a risolvere il puzzle mettili in riga dunque se devo seguire la pattern stan sbagliato 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 prima questo ok poi questo e poi così formazione riuscita all'attacco con le scarpe di ferro a questo punto meglio farle rompere per poterne poi comprare altre perfetto sono rotte ancora no buon per noi hammer time turno di mario bel colpo ok basta ancora martello normale proverò a fare fantastico ma non vi assicuro niente 18 danni prima era 16 e quindi vuol dire che il danno nostro è aumentato di due almeno con il martello con fantastico curiandoli grazie mille ok ricreiamo questo strappo vai vai basta ok direi di salire tanto perché dobbiamo salire per andare avanti altri disegni e c'è un tod dov'è il tod da qualche parte qua deve essere forse qua leggi ristorante panoramico bel vedere vista gloriosa e piatti mozzafiato ok andiamo allora qui a destra vediamo un po' non sembra esserci niente di troppo oh c'è cibo io adoro il cibo mangia e fa recuperare punti vita più tardi pensi anche di pagare vero suppongo di sì i soldi ce li abbiamo cosa c'è qua un tod grazie infinite mario ti do un consiglio non ordinare nulla dalla cucina quei soldati origami l'hanno lasciato in uno stato pietoso suppongo ok la devo fare qualcosa qua per andare qua sopra ole ok non c'è niente qua davvero c'era solo un tod quindi a meno che non posso andare qua e fare qualcosa ah c'è qualcosa qua sembra di no se c'è un altro tod non è qui nelle vicinanze vabbè per adesso ignoriamo la cosa e andiamo avanti poi vediamo che altro fare siamo in cucina bene l'uovo lo sapevo lo sapevo che c'era qualcuno qua ah pensavo che sia diventato la colazione di qualcuno vedo anche qualche altra cosa là sopra eh ok e c'è un tod nel eh nel cassetto riordinare non vuol dire solo buttare tutto quanto in un cassetto beh suppongo di sì fammi andare qua c'è un altro fungo qua quindi un altro tod ce ne sono un bel po' in effetti te ringrazio molto sia una cosa ho scoperto di pesare esattamente come una carota se hai fatto di carta dovresti pesare anche meno in realtà allora eh così perfetto uno di quei tizio di richiami mi ha preso lanciato all'indietro contro il muro contro il soffitto e sono finito giusto dentro qualcosa devo ammettere che è stato un lancio straordinario ok va bene qualcosa nel qua eh sì bene ah è stato terribile ok eh qualcosa in queste pentole sì altri punti vita qualcosa qua dentro no ok eh c'erano solamente tod extra da prendere qui allora vabbè buon per noi buon per noi allora ho visto una porta a sinistra qua quindi ci conviene andare a sinistra e poi vedere che altro fare intanto intanto bei disegni eh lo ammetto bei disegni ok c'è un altro omega strappo e non abbiamo coriandoli però oh no anche le scale e di sicuro ora non ti basteranno i coriandoli credi che riusciremo a trovarne abbastanza per ripararle scusate non ho potuto fare a meno di ascoltare credo di potervi aiutare al mio ristorante sta succedendo qualcosa di davvero brutto mi vergogno persino a dirlo io sono il capo cuoco ma finché la cosa non è risolta non posso farmi vedere puoi aiutarmi se risolvi il problema senza farti ruotare troppo saprò come sdibitarmi ok c'è un qualcosa là e wow chissà se c'è un blocco nascosto qua appunto oh bene buon per noi e strappa anzi stacca non strappa ok liberato un altro tod cioè quello sarei io ma cosa aveva in mente l'artista sono un tod blu non uno rosso scusami non dovrei lamentarmi soprattutto dopo che mi hai appena salvato eccoti una piccola ricompensa oh beh ho fatto bene a non comprare altri funghi dal tizio allora devo quindi tornare in cucina c'era un un evento da attivare prima di andare in cucina mi sa possibile possibile ok andiamo in cucina e controlliamo qual è il problema allora ci sono altri tod qua oppure campanella suoni oppure no per adesso non suona quindi buon per noi ah tod dimmi questo posto è un vero disastro e so che toccherà a me ripulire tutto aspetta 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 ha detto qualcosa sugli ovetti si mi manca ancora essere un ovetto perché non ti iscrivi al mio canale ciccio no dai basta basta no non c'è niente qua ah oh mio dio c'era qualcosa qui c'erano mini tod mini mini goomba infatti sono scarafaggi in pratica venite qua ok ahia come ti permetti ok ce ne sono altri sono dappertutto mamma mia altro che scarafaggi mamma mia che schifo ok ce n'è un altro qua sopra e ce n'è un altro nella pentola e anche qua sopra sono seriamente dappertutto eh ho schiacciato sì ok ce ne sono altri oh ok ti ho visto dietro le padelle no qua dentro ce ne sono altri sembra di no abbiamo la musica non finisce però eh ah perché sono anche qui ovviamente ahia fatti colpire cosa strano no ok preso i tod sono spaventati ma prenderò tutti quanti questi goomba strani ce n'è un altro qua ok ce n'è uno là sopra e ce n'è anche uno là dietro quindi vai e ciao finito eh sembra di sì ok quindi adesso un attimo solo eh questo posto è un po' più in disordine del solito davvero? solo un po' più in disordine del solito? pensavo fosse leggermente più in disordine rispetto al solito eh abbiamo abbastanza ok mi avete detto che non si sprecano quindi posso continuare a spammarli così a mezz'aria senza niente però eh sì davvero? abbiamo fatto oppure era quello il problema? eh non sento più nessuna di quelle bestiacce ce l'hai fatta ecco spero apprezzare questi coriandoli finemente tritati buon appetito quindi un attimo noi mangiamo coriandoli vabbè per adesso eh riempiamo le scale un'altra volta vai riempi le scale per favore eh vai basteranno? no? sì ok e strappi riparati al 100% buon per noi allora eh saliamo e non zuccheriamo chiusi fuori e sembra che spingere non ci toglierà dei guai ma come facciamo a raggiungere la cima se non possiamo passare di qui? ah un altro di quei pastelloni ok eh devo scansarli mi sa eh sì mi sa che devo scansare questi cosi eh c'è un buco qua eh allora eh a meno che non debba hammer ok perfetto bisogna colpirli con il martello o con il salto uno delle due i danni ci stanno però ok devo solo no mi sa che devo semplicemente evitarli e basta perché adesso li evito e basta credo eh e non smettono ma da dove arrivano? dobbiamo uscire da qui eh ho forse qualcosa in faccia? ok eh capita dai aha ok siamo vivi allora c'è un cuore qui eh prendiamolo subito tanto per evitare problemi qua c'è questo qua non c'è niente almeno non sembra c'è un toad nascosto da qualche parte qui magari meglio controllare dappertutto monete grazie olè olà ta ta niente posso aprire questa porta adesso? ah ok no ok perfetto eh ok premiamo un attimo posso tornare qua dentro oppure l'ascensore è ancora rotto magari ok perfetto l'ascensore è rotto sì ok allora eh premo il pulsante rosso ah presto ok oh mio dio razzi supremi ok tanti razzi supremi eh mi sa che se continuo a camminare però dovrei stare al sicuro quindi continuo a camminare finché i razzi non mi anticipano ok via mario via mario oh mio dio ok attenzione oh mio dio via 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 quanti sono ok via via sono tanti razzi matite ok posso per favore oh mio dio oh mamma mia riflessi non ho mai avuto così tanti riflessi in vita mia saliamo in fretta magari in fretta magari ok c'è un toad da qualche parte lo sento eh dove qua no eh qua oh sì era un toad perfetto era un toad matita ah ero sicuro che mi avrebbero buttato via con tutti gli altri pezzi di pastello ok grazie prego questa è la cima della torre ma ti assicuro che quei pasteloni sono piombati ancora da ancora più su ok ci sono altri toad qualche altra cosa nascosta qui da qualche parte sembra di no ok quindi salviamo tanto faccio backup non è un problema ecco l'estremità del nastro con la faccia di mio fratello stampata nel mezzo sta proprio firmando le sue malefatte non dovremmo cercare di staccare qualcosa in qualche modo? oh sì e se ci saltassi contro dal basso? eh non riesci proprio a saltare più in alto di così? caspita c'è mancato un pelo come vorrei che quei bastioni smettessero di impicciarsi nei nostri affari oh per poco non vi cancellavo dalla faccia della terra l'artista missilista astuccio di pastelli non ne posso più di vili sabotatori come te che cancellano i miei capolavori non hai mai sentito parlare di me vero? figuriamoci qual è l'ultima galleria d'arte che hai visitato? tss non serve che rispondi ora ti darò una lezione d'arte gratis mi presento sono duccio astuccio della matitesca dodicesima o dodici membro della brigata cancelleria cerca di imparare qualcosa d'accordo? sono anche il guardiano di questo nastro e non esiterò a usare la tua faccia per gli schizzi preparatori del mio prossimo capolavoro brigata cancelleria e il tuo nome quindi è duccio matrioska quindicesimo non è un po' troppo lungo? senti non ti offendi se ti chiamo solo duccio astuccio vero? immagino ti abbia mandato mio fratello per cercare di fermarci ad ogni modo caro duccio saprai anche parlare bene e disegnare meglio ma forse non hai ben presente chi sia il mio amico Mario già proprio così del resto avrei studiato solo arte Mario è un eroe con i baffi e ora te li suonerà alla grande dico bene Mario rifatevi gli occhi davanti al mio arsenale di ben 12 pastelli ve ne farò vedere di tutti i colori siamo contro duccio astuccio che razza di nome è duccio astuccio e ci ha sparato mattiti addosso ok bersagli localizzati ah quella piastrella manforte non sembra attiva che succede? è forse spenta? ehi ma quello cos'è? un pannello con su scritto on? è la prima volta che ne vedo uno all'aspetto di un interruttore quindi magari accende qualcosa ok allora lavoriamo al contrario devo arrivare all'on e poi al qua quindi vuol dire che probabilmente devo fare qualcosa del genere così no 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 così no aspetta fermi ok fermi allora facessi fammi fare ok facessi così dovrei arrivare qua posso mettere qualche altra cosa qua in mezzo di utile no ok sono pronto vai ho fatto bene lettera evita i pannelli su cui c'è il mirino l'avevo intuito gioco on e adesso zero attacchi a segno impossibile i miei missili sono perfetti sei tu che non capisci l'arte ok turno di mario artimagni manforte attivata ok afferra e chiudi no no ho il coperchio chiuso non posso fermare i miei missili ah ah mitico gli hai fatto esplodere i missili dentro forse è questo il suo punto debole l'interno delicato ok quindi adesso devo attaccarlo dal davanti suppongo con un salto avrebbe senso allora proviamoci da davanti vuol dire qua poi potrei fare così però mi serve poi questo no on ah no arriva comunque là giusto fatemi controllare sì e posso fare ben due attacchi così vero ho calcolato bene on ora vedremo eh allora scarpe lucenti perché perché sì vai e oh ancora proviamo allora anche con il martello vediamo cosa fa più danno vai turno di mario perfetto ok abbiamo fatto 6 17 e 15 quindi avessi fatto danno massimo mi sa che il martello è leggermente meglio ah ahia il tuo approccio artistico ha delle grosse lacune lasciatelo dire ricarica ok ricarica completata e ne ho ancora un sacco da parte ok quindi devo richiudere il coso però dobbiamo cercare di evitare questi cosi qua allora vediamo un attimo andassi lì dovrei riattivare un'arte magna quindi vediamo un po' facessi così no 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 eh sì così andrebbe lì poi giù poi qua ed è già on quindi il percorso è giusto credo spero boh vai vai oh no ok vi colpisce se andate sul bersaglio allora la mia opera d'arte ti ha colpito boh ok occhi aperti mario ok perfetto ma non mi fermano evita i pannelli già lo sapevo ok quindi vuol dire che bisogna proprio fare il giro per evitare danno cosa che non sapevo pensavo colpissero solamente dopo il turno del movimento vabbè artimagni manforte attivata non sono precisamente dietro ma funziona ahah e adesso devo provare a recuperare un po' dei punti vita mi sa allora eh o a meno che io non possa così giusto sì colpirlo con le artimagni giusto sarebbe così così più uno on poi va giù e con beh così giusto così dovrei fare anche un'artemagna proviamo vai ho fatto ricontrolliamo un attimo sì prendo anche i punti vita ok vai azione extra e voilà non prendo punti vita ma non importa artimagni e giù ahah ci hai provato ok quindi vuol dire che non fa niente finché non ok parato stavolta non fa niente finché non ricarica appunto i razzi quindi devo colpirlo e basta adesso però devo richiuderlo quindi devo stare un po' più attento allora non posso andare là quindi vuol dire che mi conviene andare lì poi giù poi mi serve qualcosa per andare qua mi serve un on però così vediamo dai mi curo mi curo on artimagna ok perfetto vai ed evito tutti quanti i colpi e recupero punti vita on e adesso eccoci qua ahah turno di mario artimagni dai slam ahah perfetto ora dovrebbe esplodere da solo però adesso vuol dire che devo attaccare ho perso un po' di tempo ma non sapevo cosa fare quindi va bene allora usa le frecce vediamo un po' eeeh così arriviamo qua poi arrivo là sull'on potrei anche fare così per prendere anche lo scrigno si poi sarebbe là sopra e poi arrivo qua dove posso fare appunto l'attacco è giusto? spero tanto di si ok scrigno apriti roba extra che non si butta mai on e adesso attacco standard con scarpe lucenti e basta ok perfetto turno nemico guscio di bronzo chiusura botto ok parato al punto giusto al momento giusto più che altro oggi tutti si sentono critici d'arte ma non mi farò mancare di rispetto ecco il mio capolavoro ammiri il mio formidabile attacco artobaleno usa le frecce quello credo possa essere un problema eeeh vediamo un po' eeeh abbiamo un'artemagna qua la posso raggiungere da eeeh da qua giusto? si è già attiva quindi va bene eeeh va tutto quanto bene si potrei anche cambiare qualcosa per ottenere ah per due nice quindi è così e già che ci sto scrigno perché io può andiamo per due cosa faccio il per due non ne ho idea ma funziona turno di mario artimagni ok ah ho preso i pastelli colpisci continuo a colpire bonus battaglia abbiamo sconfitto duccio astuccio non può essere sconfitto da un misero rappresentante della volgare cultura pop era meglio quando eri una manciata di pixel e saltavi da una piattaforma all'altra amico oh è apparsa una nuova piastrella manforte è come se fosse apparsa da quel duccio astuccio che abbiamo appena sconfitto deve essere molto importante artimagni colpisci colpisci ancora con gratulazioni hai sciolto il nastro rosso max corriandoli ha aumentato siamo stati grandi e abbiamo ottenuto la vittoria insieme casomai non l'avessi mai detto sono sempre più convinta che io e te formiamo una squadra niente male ehi ora il sacchetto dei corriandoli più capiente corriandolazioni Mario ok è stato tutto molto emozionante ma non è ancora il momento di cantare vittoria abbiamo altri nastri da sciogliere dunque quale nastro avevamo scelto di seguire dopo questo ah già il nastro blu che si inerpica su quella montagna rossa beh un posto vale l'altro immagino anzi forse ci va anche meglio da qua sembra davvero bello laggiù salvataggio completato quindi nella prossima parte di Paper Mario di Origami King vedrò cosa vedrò cosa fare quindi see you next time baby car Grazie.